Provo a essere telegrafico, visto che sono dalla parte di quelli che cercano di tenere i tempi. Sono d'accordo con Dino, io di solito mi presento come I am a plumber, io sono un idraulico, e quindi siamo perfettamente allineati. Due considerazioni sull'accesso. Innanzitutto non mi piace parlare di accesso, che mi sembra una parola che dà una connotazione passiva, da navigatore guardone, che ho già sentito dire, da spettatore simile televisivo. Preferirei parlare di net citizen, come si diceva una volta in qualche azienda, internet dei pionieri, quindi cittadino di internet. Non ho bisogno di dirvi perché sarebbe importante che tutti gli italiani fossero cittadini di internet, questo è già stato detto più volte. La preoccupazione è perché siamo sotto la media, perché siamo rimasti indietro, perché nelle statistiche OX siamo sempre in fondo alla lista. Il mio contributo è perché abbiamo avuto una liberalizzazione di facciata nel mondo del TLC, che ha privilegiato una competizione infrastrutturale insostenibile, che è una burletta, che è una presa in giro, senza toccare alcuni snodi critici del mercato del TLC. Il digital divide è una coperta molto corta che tutti continuiamo a citare. Io vedo un digital divide tecnologico, che non è soltanto quello di qui non arriva internet, ma anche dove arriva internet non ci sono abbastanza risorse, sono stati fatti abbastanza investimenti per permettere a tutti quelli che lo chiedono di essere connessi. Un digital divide economico, costa il pc, costa la connessione, ma in realtà io vedo un digital divide tipo culturale, che cosa ci faccio con internet, come faccio a usare un personal computer, e addirittura esistenziale, perché se ci rendessimo conto del valore che ha essere connessi in rete, forse i 20 euro al mese della connessione non sarebbero questa grande cifra, soprattutto in un mondo dove l'energia costa sempre di più, e l'inquinamento dovuto ai nostri movimenti, al non telelavoro, incombe. Quali sono le vere barriere allo sviluppo? Ne vorrei aggiungere a qualche due, a quello che ho sentito. Io vedo i prezzi sproporzionati alla qualità, da un lato, e la qualità del servizio in genere mediocre e non certificata. I prezzi sono sproporzionati perché c'è questo paradosso che un 10% degli utenti consuma il 90% delle risorse, e quindi molti pagano più di quello che utilizzano, e viceversa sembra che gli operatori non facciano altro che cercare di limitare artificiosamente per tutti i servizi erogati, perché? Perché devono in qualche modo, pensano di poter tenere sotto controllo questo 10%. E quindi introducono una rete non neutrale, quando in realtà questo finisce per essere una limitazione dello sviluppo. La rete dovrebbe essere veramente neutrale, quindi senza nessun vincolo a priori sui servizi e sui protocolli. E dovrebbe anche avere, questo mi sembra che non avevo sentito dire da altri, una disponibilità di indirizzi internet veri, non fittizi, adeguata. Questo da un lato consentirebbe a tutti i cittadini di internet di essere di serie A e non di serie B, e dall'altra semplificherebbe tantissimo certi meccanismi di tracciamento delle attività illegali, che potrebbero essere fatte in modo rispettoso dei diritti individuali, anonimato protetto e quant'altro, e che di fatto invece a oggi sono a rischio per la mancanza di indirizzi sufficienti. Se ho ancora un minuto e concludo... Hai un minuto. Benissimo. Due considerazioni sui cambiamenti che stanno avvenendo. La mia generazione ha visto dei cambiamenti epocali. I computer sono passati da essere grossi come una stanza a stare in un taschino. La velocità della prima rete geografica a cui mi sono collegato era mille volte inferiore a quella che chiunque oggi può acquistare in ADSL. Non abbiamo ancora finito. Siamo ancora a metà strada. Stiamo vedendo cambiamenti sia di modo, saremo sempre connessi attraverso una multicanalità, attraverso la presenza di più modi per essere in rete. E questo avrà influenza sulle applicazioni, sui servizi che andranno a interagire con la nostra vita. E dall'altra parte stiamo per vedere altri incrementi di ordine di grandezza e di velocità delle reti. Attenzione, questo non è un continuum, non è un giro alla manopola e ho qualche cosina di più. Ogni gradino di velocità delle reti implica un cambio di paradigma. Se posso trasmettere documenti il fax non serve più, se posso trasmettere la voce tutto va in telefonia VoIP, se posso trasmettere un brano musicale l'editoria pensa, abbandona il CD, se posso trasmettere un film non si affittano più i DVD e così via. Se posso trasmettere in tier archivi il computer perde senso. Cioè, dare il capito di sì. L'ultima parola, se posso fare videoconferenze la gente viaggia molto meno. E con questo ho concluso. Bravo. Il prossimo intervento, cambiamo argomento, OPNES, Oreste Signore, V3C Italia CNR, responsabile del V3C Italia. Il prossimo intervento, cambiamo argomento,